Marco Facondo, lei è il direttore della Cassa di Riposo Padre Pio di Catania. Quando è che ha visto per l'ultima volta il signor Giuseppe Longo? L'ultima volta che abbiamo visto il signor Longo è stata la mattina del 20 marzo perché ci saremmo dovuti recare ai servizi sociali per formalizzare l'istanza di ricovero per la struttura in quanto lui aveva dichiarato di essere in uno stato di indigenza e quindi io avevo precedentemente allertato i servizi sociali. Che genere di assistenza voi avreste potuto garantirgli? Sicuramente gli avremmo garantito un posto dove dormire decente perché purtroppo quando si è presentato a noi era in uno stato totale di abbandono fisico nel senso che dichiarava e si sentiva che da almeno tre giorni non si poteva lavare, che aveva dormito nella bottega dove era solito operare e che quindi non aveva disponibilità per poter andare avanti. Quindi noi comunque gli abbiamo garantito e gli stavamo garantendo il vitto e l'alloggio e i consulti medici che sono stati fatti qui da noi. Cosa ricorda del suo lavoro all'interno di quella bottega? Io da alcuni anni ero solito recarmi da lui perché per assurdo portavo a riparare le sedie a rotelle degli altri pazienti. Essendo le sedie a rotelle, diciamo avendo delle camere d'aria di una forma e di una dimensione particolare non riuscendo a trovare altrove le camere d'aria gli disse guardi io ho bisogno perché abbiamo parecchi anziani che sono in sedie a rotelle ho bisogno di trovare sempre queste camere d'aria e lui mi disse allora se lei mi garantisce che verrà sempre io le compro e le metto da parte così ogni qual volta le ritroverà. Del funerale si sa qualcosa? Dalle notizie che abbiamo avuto noi ad oggi non c'è certezza se e quando si svolgeranno i funerali e con che modalità. Lei più volte ha detto di avere raccolto le sue dichiarazioni in lacrime. C'è una frase del signor Longo che lei ricorda particolarmente? Ricordo che mi disse se il comune non mi assisterà perché non ho i requisiti vorrà dire che mi recherò nell'appartamento perché mi disse di avere un altro appartamento sebbene in pessimo stato mi recherò lì e aspetterò la mia fine lì dentro. Grazie. 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 Grazie.